Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua, bentornati in un altro video. Allora, oggi voglio farvi un altro ulteriore esempio, prendendo un esempio molto concreto e molto funzionale, di quanto questo sistema, quindi il sistema della produzione musicale, non sia cambiato nel tempo e come l'inversione di questo paradigma, o meglio, la conoscenza dei ruoli che, diciamo, regolano sia il mercato discografico che poi di conseguenza, diciamo, le esigenze, è brutto dire anche questo, ma è necessario del pubblico, ci possa permettere di costruire un sistema che dà dei risultati molto certi e molto chiari, ok? Quindi, per fare questo, che cosa ho preso? Ho preso l'esempio di Billie Eilish. Ora voi direte, ah vabbè, però stiamo parlando di un artista con un disco che è stato lanciato, e quindi la prima domanda che faccio sempre è dire, ok, ma chi la conosceva prima questa persona? E due, punto fondamentale, che cosa hanno fatto passare di questo lavoro? Perché? Perché, per via di quello che già vi dicevo nella volta scorsa, mi sembra sempre di ripetermi mai bene che ve lo piantate nel cervello, che questa tecnologia e questa saturazione del mercato ha generato un sacco di situazioni favorevoli per i, diciamo, loschi figuri, no? A me piace scherzare che, ovviamente, fanno parte di questo, di queste settorialità. Ok, quindi, prendiamo, prima di tutto, il fenomeno Billie Eilish rispetto a quello che i media ci hanno fatto passare. Fate caso, eh? Io vi ho sempre detto, oggi ci bombardano con la possibilità di fare tutto da soli, per cui diventa il produttore di te stesso, produci la tua musica, produci il tuo disco in casa con pochi, a un livello professionale, eccetera, eccetera, per non parlare di quei che ovviamente vi consigliano anche di fare Facebook Ads o Google Ads o investire soldi in pubblicità quando voi non avete pensato prima ad un ecosistema che possa permettervi di rientrare, anche di poco, ma rientrare nel vostro investimento. Ma qui lasciamo perdere, perché sennò mi inviperisco. Però, detto questo, torniamo a Billie Eilish. Questo era quello che la stampa italiana ha detto, parliamo di un disco del 2019, ovviamente un super successo internazionale, ha detto Grammy, musica da cameretta, trionfo per la teenager Billie Eilish ed il fratello. Questo era quello che si diceva su una testata. Andatevelo a cercare, è molto divertente questa cosa. Praticamente è passata l'idea che questi due in cameretta si sono fatti le loro cose e sono magicamente finiti al successo dei Grammy. Ok. Poi, dalla cameretta al palco dei Grammy, trionfo per Billie Eilish, questa è un'altra testata nazionale. Ora, bellissimo anche questo, che è un piccolo trafiletto che ho visto e non ho potuto fare a meno di condividere con voi, dall'inviato a New York, dalla camera da letto di due adolescenti in California, il trionfo nella notte dei Grammy è la parabola che domenica sera ha consacrato Billie Eilish e suo fratello, Puntini. Puntini. Ok. Quindi, questo è quello che ci facevano passare. Per cui, tra tutto, immaginiamo, ero cabesti. Allora, c'è sicuramente qualcuno che dalla sua cameretta riesce effettivamente ad arrivare ai Grammy. Fantastico. Ora, per entrare invece in quella che è la realtà, andiamo ovviamente su All Music o Discogs e guardiamo i crediti relativi a questa pubblicazione. Quindi abbiamo Società, Fonographic Copyright, per cui chi detiene le proprietà fonografiche e i diritti fonografici di questo disco. Parentesi, banalizziamo, le proprietà dei master, argomento importantissimo di cui non parleremo oggi. Abbiamo, allora, Darkroom e Interscope Records, per cui sono due diverse società. Poi abbiamo sempre le stesse due società che si occupano anche di Copyright, quindi di tutto quello che è la gestione del Copyright e quindi del, diciamo, collecting di questi brani, quindi del sfruttamento del Copyright nei diversi territori. Poi abbiamo Published By, quindi Publishing, Universal Music Group e un altro Publisher che è Last Frontier, quindi due diverse, in questo caso, etichette che si occupano, ovviamente, una è un'etichetta, l'altra è un management, ma un mistone tra un'etichetta, eccetera, eccetera, insomma, che si occupa del Publishing. Ora, andiamo avanti nelle società. Abbiamo una società di mastering che è GZ Media, ok? Che si è occupata, ovviamente, del comparto, probabilmente legato al mastering di quell'album. Poi abbiamo Pressed che quindi significa tutto il comparto che invece di cui non abbiamo ancora parlato e che si è occupato di tutto la parte stampa che è Precision Record Pressing, ok? Poi abbiamo Accrediti, qui entriamo più nel dettaglio dei ruoli. E&R, ne abbiamo due, non ve li sto a leggere, andateveli a vedere, ve li metto poi sopra. Quindi vi ricordate nel primo video che vi ho fatto, ah, vi ricordate che all'inizio c'erano gli E&R e vi ho detto, ah, guarda caso, adesso ci sono realtà che stanno investendo nuovamente sugli E&R, guardatevi il Global Music Report, eccetera, pum, qui saltano fuori due E&R. Abbiamo la figura del Legal, che in questo caso è una persona che si occuperà di tutto quello che è, diciamo, la contrattualistica, immagine di tutto quello che sarà, il mondo che sta dietro a questa registrazione, a questo successo discografico da cameretta e abbiamo già nominato 50 persone. poi abbiamo due persone che si occupano del management, poi abbiamo un Mastered By, quindi, uh, un Mastering Engineer, abbiamo un nome e cognome, ok, che in questo caso è John Greenham, poi abbiamo un Mixing Engineer, guarda caso, anche qui, l'importanza dei ruoli, ok, e quindi qua abbiamo un Rob Kinelsky, poi abbiamo un Producer, attenzione, anche qua sempre ruoli, uno è il fratello dell'artista, quindi il Billy Eilish, ma in questo caso abbiamo un produttore addizionale che è Billy O'Connell, non ho idea di chi sia, ma me lo andrò sicuramente a vedere, poi abbiamo scritto da, quindi parte autorale, scritto da Billy Eilish e O'Connell, quindi c'è dentro anche lui nella parte di scrittura, oltre che al produttore, in questo caso il fratello di Billy Eilish, quindi, inoltre tutto qua nelle note possiamo vedere che attraverso delle, diciamo, degli special pack esclusivi fisici che hanno fatto, abbiamo delle società che si occupano, diciamo, di distribuire in determinati paesi delle, diciamo, delle edizioni speciali di queste proprietà fonografiche e di questi brani, ok? E in particolare di questo disco, in particolare qua parlano di Europa e una parte del Nord America. Per cui, ragazzi, stiamo parlando di un disco che, dalla testata che diceva dalla cameretta ai Grammy Award, io direi, dalla cameretta a 27 persone o quante sono, non lo so, più di 15 sicuramente ai Grammy Award. Per cui, fatevi questa riflessione, fatevi questa riflessione anche, io pose ovviamente un disco molto conosciuto, ok? Un disco che ha avuto un grandissimo successo, ma guardatevi dischi che vi interessano magari anche di artisti che seguite, che sono magari un po' più indipendenti, che non sono già, tra virgolette, o meglio, che non sono stati lanciati con delle operazioni così, così grosse e vi accorgerete che almeno 5, 6, 7, 8 nomi per disco, insomma, li potrete leggere. Anche perché, ultima cosa che vi dico prima di salutarvi, valutate che tutte queste società, ok, valutano tantissimo la qualità dei prodotti, al contrario di quello che potete pensare, al contrario di quello che potete credere che oggi facendovi tutto da casa funziona tutto benissimo, tanto poi lo possiamo distribuire e buttarlo in un calderone dove nessuno ci caccherà mai di striscio. Invece, queste persone la prima cosa che fanno è vedere la qualità dei vostri lavori. Seguite un sistema, invertite il paradigma, vi fate prima un'idea del vostro progetto, dove può essere interessante provare a piazzarlo, a quel punto vi fate una classica idea, seguite un percorso, avete la vostra musica e vi si apriranno automaticamente delle strade. Ciao a tutti ragazzi e in questo caso ci vediamo al prossimo video. A presto!